Ciao a tutti ragazzi, sono Ara ed eccoci qui con un altro pacco questo pacco mi è stato spedito da un mio amico di Roma, Alessandro che ha appena aperto una fumetteria e vende cose di questo tipo come quella che c'è nel pacco andiamo subito a vedere cosa c'è dentro usiamo sempre fendipacchi non può mancare mai i nostri unboxing ecco qui fendiamo il nostro pacco ecco qua, ci riesce come sempre perfettamente taglia tutto come se fosse burro grandissima fendipacchi ecco qua ce l'abbiamo fatta ah beh c'è un bel saluto ciao Ara ciao andiamo a vedere subito cosa c'è dentro e iniziamo con una sorpresa inaspettata un fantastico zoro dalla testa enorme grazie mille, questo non era in programma grazie davvero bellissima è un portachiavi tra l'altro comunque non lo userò mai come portachiavi perché è troppo figlio poi si rovina grandissimo grazie mille andiamo a vedere cos'altro c'è nel pacco ragazzi mi viziate con queste cose in più sempre cose in più trovo nei miei pacchi ragazzi siete grandi comunque andiamo a vedere ah questo si che è un bel modo di imballare le cose ci sono queste diciamo buste d'aria e in più c'è tutta la plastica scoppiettosa questo di sicuro è il modo corretto di imballare le cose andiamo a vedere quale figata nasconde questa plastica già mi sto allontanando dalla forza della figaggine troppa figaggine ragazzi io so già ovviamente cosa c'è eccoci qui devo fare uno sforzo per prenderlo tra le mani perché la figaggine mi allontana ecco qua guardate qua che figata ragazzi è Batman della serie Arkham City Play Arts Guy il numero 7 Batman con la suite del 1970 quella classica ragazzi spettacolare ora ve lo faccio vedere un secondo perché sennò sarei proprio stronzo eccolo qua non so se si riesce molto a vedere con il riflesso della plastica però potete vedere il costume grigio e blu il batarang dorato fantastico ragazzi figata pazzesca ragazzi allora questo mio amico ha aperto da poco questa fumetteria e io vi metto qui sotto il link della pagina facebook per andare a dare un'occhiata a tutto quello che ha dite che vi ho mandato io così lui vi fa degli sconti questa cosa non era programmata ora mi ammazzerà comunque ragazzi andate davvero a vedere cosa vende il mio amico perché ragazzi ha aperto da poco è un ragazzo come noi della nostra età praticamente 20 anni 23 anni e ha aperto questa fumetteria quindi vorrei dargli il mio aiuto il più possibile e comunque dato che vende cose di questo calibro direi che non c'è bisogno di ulteriore pubblicità per dirvi di andare a dare un'occhiata ragazzi perché è davvero una figata questo Batman lo aspettavo da tanto tempo comunque il nostro unboxing per oggi è finito ricordatevi di andare a dare un'occhiata al negozio facebook la pagina facebook del mio amico il nome della fumetteria è Dragon Legend comunque grazie mille per questo Batman ovviamente non è regalato però mi ha fatto un bello sconto grazie mille per lo Zoro noi ci vediamo al prossimo video ragazzi lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto e fatemi sapere cosa ne pensate di questa bellissima figure se volete la recensione ciao